Il 7 gennaio nelle scuole superiori gli studenti torneranno in classe ma con didattica in presenza al 50 per cento. L'altra metà delle lezioni sarà seguita da casa. Così si è convenuto nella videoconferenza del tavolo di coordinamento provinciale dei trasporti convocato dal prefetto Salvatore Pasquariello collegati i rappresentanti della scuola, degli enti locali, delle società di trasporto. La decisione è a seconda quanto disposto dall'ordinanza del ministro della salute che fissa al 50 per cento il limite delle presenze a scuola. L'organizzazione finora predisposta sul territorio precisa tuttavia la nota della prefettura avrebbe permesso di trasportare in piena sicurezza e rispettando le prescrizioni vigenti di capienza massima dei mezzi al 50 per cento il 75 per cento degli studenti. Le presenze nei singoli istituti pertanto vengono riprogrammate mentre resta inalterata l'organizzazione dei trasporti tarata sui tre quarti della didattica in presenza originariamente prevista. La riunione del tavolo di coordinamento è stata aggiornata a sabato mattina. Intanto il dirigente scolastico provinciale Fabio Molinari ha provveduto subito a convocare con urgenza una nuova conferenza di servizio con i dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado della provincia per coordinare le attività in vista della ripresa. Il rientro in aula con una percentuale del 50 per cento sarà vigente fino al 15 gennaio mentre la parte restante dell'attività proseguirà attraverso la modalità della didattica digitale integrata spiega Molinari. Di concerto con la prefettura aggiunge le società di trasporto e gli enti locali continueremo a lavorare affinché la percentuale delle attività in presenza possa progressivamente aumentare. Per quanto concerne invece gli ingressi a scuola da parte degli studenti non è prevista l'introduzione di orari scaglionati ma verrà conservato un unico turno nel pieno rispetto delle norme di sicurezza.